Bene, io comincerei subito da Gabriella Ferre. Scusa, perché ti vesti così? Che significato ha per il terrabbigliamento? Perché come so vestire? No, boh, so chi ti sta seguendo, la camera di Lombardi sta seguendo. C'è una tuta da operaio con le cernie. No, no, non è tanto un abito, è il sovrappiù, come si chiama? Ah, le scioccaglie? Le scioccaglie. Ma tu lo sai che io mi sono sempre messa le scioccaglie, no? Sì, no, ma ne hai in quantità industriale, vedo. A causa delle scioccaglie, dieci anni fa, quando non c'erano gli ippi, prendo più pomodori io. Oh, ma no, io volevo sapere, parlare seriamente, cioè che significato ha per te l'abito? Perché sono india, io so, vengo dall'Amazzonia. Perché sei sempre vestita così? Io so india, beduina, so araba. Romana no? Testaccina, e beh i testaccini che so.